A volte tornano, rieccoci, la voce e il tempo apre con l'accoglienza ai profughi dell'Afghanistan e l'appello dell'arcivescovo Cesare Nosiglia. In prima pagina le ragioni del no all'eutanasia e i suoni del silenzio di un'estate difficile per tutti. Il terzo autunno della pandemia, la speranza da dare ai giovani. Le incognite d'autunno con le prime crisi e quella storica della Fiat che si trascina. La basilica di Superga, la fraternità del Sermig di Ernesto Olivero. Il ruolo di Mario Draghi nella nuova geopolitica del mondo. Gino Strada, grande medico, grande uomo. Le feste d'autunno e cominciamo con la Madonna dei Fiori di Bra, cent'anni fa, la nascita di fratello Luigi Bordino. L'addio ad un grande vescovo, Monsignor Sebastiano Do, gli auguri al nuovo vescovo di Tortona. Gli oratori proseguono nel vociale dei ragazzi con un settembre pieno, prima dell'apertura delle scuole. Le pagine dell'appostolato digitale e della bioetica. La voce e il tempo. L'altro giornale.